Sabato 20 aprile 2019, è il centodecimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Ariete. La chiesa ricorda Santa Sara di Antiochia. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Sara. Il nome ha origine ebraica e significa principessa. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 20 aprile del 1964 viene commercializzato dall'industria dolciaria Ferrero di Alba il primo vasetto di Nutella. Venne preparata a partire da una precedente crema denominata pasta janduyotte e poi super crema. Oggi Nutella è la crema spalmabile più diffusa al mondo, con 350.000 tonnellate prodotte ogni anno. L'Oxe ha definito la Nutella un prodotto esemplare nell'economia di globalizzazione. Le nuove fabbriche che la producono sono infatti distribuite in tutti i continenti e gli ingredienti utilizzati provengono da diverse parti del pianeta. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri all'attrice americana Jessica Lange, nata a Cloquette in Minnesota il 20 aprile 1949. Nel corso della sua carriera ha ricevuto 6 candidature ai premi Oscar, vincendolo per due volte. Ha inoltre vinto 5 Golden Globe e 3 premi Emmy. Le frasi del cinema. Ora non combatto più per niente, meno che per me. Mi interessa una sola causa, me stesso. Dal film Casablanca. Proverbio del giorno. La fretta va bene solo per acchiappare le pulci. Proverbio russo.